Festa emozionante e particolare in onore del Cristo degli Abissi a Vallevo in provincia di Chieti, nel pieno della costa dei Trabocchi, con centinaia di fedeli, curiosi, amanti del mare, tutti stretti attorno al simbolo che protegge pescatori e naviganti, piacevole tradizione di ogni primo sabato di agosto. Come ogni anno la cerimonia è stata vissuta in un'atmosfera di grande suggestione, ma la comunità ha aggiunto il valore del ritrovamento del Cristo, che ricordiamo sparì misteriosamente il 4 giugno dello scorso anno e fu ritrovato nei fondali di San Vito il primo luglio dal sub Luigi Morgione. Un gesto che non ha mai trovato spiegazione, col ritrovamento che è stato accolto dalla comunità come un fausto presagio. L'opera di bronzo è alta a 73 centimetri, pesa 15 chilogrammi, realizzata 24 anni fa dal maestro lancianese Vito Pancella e posta a sei metri di profondità nelle acque del porticciolo di Vallevò. I sub dell'orsa minore di Lanciano, gli angeli custodi del Cristo. La fiaccolata, la santa messa e una profonda devozione hanno accompagnato la speciale ricorrenza in un significato non solo religioso, ma anche segno di accoglienza di un territorio che tanto deve al mare. Il Cristo degli Abissi fu commissionato nel 1994 dall'associazione Orsa Minore Sub che si propose come ente capofila di un prestigioso e complesso progetto di posa in opera subacquea. L'idea fu subito sposata e finanziata da altri enti, l'associazione Scoglio del Gabbiano, l'amministrazione comunale, il Rotary Club e il Metron Club di Lanciano.